Ottaviano, non sei che le hanno, siamo Ottaviano, l'angolo, l'angolo, l'angolo è chiamata fermata, l'avazzi, Ottaviano, Ottaviano, eccoci Ottaviano, ho chiamato sinistra, noi dobbiamo uscire a sinistra, per cui non testa la prossima, ecco, quella notte è la prossima, Quanti minuti mancano? Per un minuto, ecco, di partenza signori, vedete, siamo a Sipro, Sipro, dove dobbiamo sedere, vedete, da là siamo sedendo a Sipro, ecco, bellissima galleria, favolosa, senti, ma quanti trentini sono passati? Sono quindici, quindici, tu hai detto? Va bene, facciamo alcun peso, ma non so, 18 avevi detto, ma come si fa 18? Che sarà mai, io 14 almeno, mi mancava più uno, eh, una è di differenza, ma tu 18, ecco la galleria favorosa, ma ora la devono costruire 18? Che sarà mai, guardate ragazzi, stiamo arrivando a Sipro, diciamo che vabbiamo nel fatto messi siamo, non, 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 non! Grazie.